A fare regalo ad uno di voi che segue tutti i miei video e lascia sempre like perchè nell'ultimo video abbiamo raggiunto oltre 200 like e l'obiettivo erano ben 50 oggi quindi non dovrò lasciare un altro codice ma se anche te lo vuoi lasciare un bellissimo like basta premere questo tasto allora iniziamo come l'altra volta il primo che appunto troverà la parola all'interno del mio schermo quando appunto darò il via andrò quindi subito a lasciare il codice quindi prima lo trova una persona prima sarà un bene per tutti quanti quindi guardate bene quindi 3, 2, 1, via ho appena lasciato il codice è perfetto ora il codice non c'è più vediamo il primo di voi che lo trova e mi raccomando per supportarmi che vado a lasciare questi codici codici supporto un codicatore codingamer582 mi raccomando in titolo anche voi inoltre potete trovare il link di questi articoli che potete prendere a meno di 4 euro nella descrizione o nei commenti andate ora a guardare se anche voi volete riceverli quindi ciao ragazzi bye